Buona giornata e ancora una buona domenica dalla redazione di Udinese TV. In apertura di questo notiziario siamo pronti a tornare a Parma dal nostro Jacopo Romeo per le ultime dal campo in vista della sfida di pranzo tra Parma e Udinese con i friulani. Chiamate a ottenere un buon risultato dopo la sconfitta di Roma di domenica scorsa, allora andiamo dal nostro inviato a farci raccontare anche come procederà poi la mattinata in vista della sfida. Ciao Jacopo, ben ritrovato. Ciao, ciao, ben trovato Davide, ben trovati anche ai nostri telespettatori da casa. Brunch, pranzo slash colazione appena finito per l'Udinese alle 10.45, poi sarà tempo in riunione tecnica e sarà lì che Gotti illustrerà le scelte di formazione. Andiamo subito nel vivo visto che ormai siamo a meno di due ore e mezza dal kick-off, Davide. Davanti, davanti, chi giocherà davanti? Davanti dovrebbe esserci il Tucu Pereira, sossegno di uno tra Llorente e Okaka. Le ultime circostanze aveva giocato Llorente e Okaka sta gradualmente ritrovando il top della condizione dopo il lungo stop per l'intervento alla coscia. A centrocampo vediamo quello che succederà perché Macengo, impropriamente giudicato come a rischio, barra è infortunato, c'è a disposizione. Gotti nuovamente ha parlato in maniera entusiastica di lui ieri alla vigilia e allora occhio che magari toccherà a lui giocare a Ritolare qualora così non fosse, rivedremo. Uola, Sarslan e il capitale Rodrigo De Polli in mediana. Sulle fasce ancora Zigal alla sinistra e Larsen, tanti auguri, 30 anni per lui oggi, sulla destra. In difesa invece dovrebbe ritornare Rodrigo Becao, vedremo se al posto di Bonifazi, Becao è stato fuori nelle ultime due gare, Noiting è l'intoccabile, Samir sta ben facendo, soprattutto poi come mancino di ruolo sul centro-sinistra è l'unico interprete qualificato che può giocare lì, vedremo quale sarà la scelta anche in tal senso di Luca Gotti. Per quanto riguarda invece il Parma sappiamo che si tratta della classica partita trappola, ha presentato bene ieri Gotti perché la formazione di Aversa Davide sostanzialmente all'ultima spiaggia, è una situazione di classifica disperata e in queste condizioni qui paradossalmente può rappresentare una minaccia ulteriore per il carico motivazionale che però l'Udinese deve quantomeno pareggiare perché è riduce da un 3-0 pesante maturato sul campo della Roma con un bruttissimo primo tempo che è stato tra l'altro, come lo stesso Gotti ancora ci raccontava ieri, analizzato, vivisezionato in settimana in un confronto con la squadra, in un confronto con i giocatori. Ti do anche due curiosità, la prima che questo albergo, questo grande albergo, grande hotel qui nel centro di Parma, a 5 minuti scarsi dal Tardini a piedi, fa anche quartier generale il nuovo proprietario del Parma, Kyle Kraus, l'abbiamo incrociato proprio pochi minuti fa, quindi c'è una sorta di match, tra virgolette, in maniera simpatica che si gioca già qui perché Kraus e la sua famiglia hanno in questo hotel il loro quartier generale. E poi l'ultima curiosità riguarda anche il Tuku Pereira perché il Parma in ultimi anni ci ha fatto penare, David, spesso e volentieri ai noi ci ha battuto, l'ultima vittoria bianconera a Parma risale proprio al 2013, un 3-0 con un gol del Tuku Pereira. E chissà allora, l'auspicio è quello, che il cerchio non si possa chiudere quest'oggi. Queste sono un po' tutte le ultime notizie dal ritiro dell'Udinese, naturalmente David, dalle 11.30 c'è Massimo Campazzo con tutti i suoi ospiti per seguire ancora più da vicino la marcia d'avvicinamento al match. A te. Grazie, grazie e buon lavoro al nostro Jacopo Romeo. Lo ritroverete proprio a partire dalle 11.30 con Studi e Stadio, con Massimo Campazzo e i suoi ospiti, Paolo Bargigia. Per quanto riguarda questa giornata di Serie A andiamo a raccontare anche quali sono i primi risultati negli anticipi disputati venerdì e sabato. Si era partiti con il 3-0 della Fiorentina sullo Spezia e della vittoria del Torino su 1-0 sul Cagliari. Ieri la Lazio ha superato la Sampdoria 1-0, 2-2 tra Genoa e Verona e 1-1 tra Sassuolo e Bologna. Oltre alla sfida del Tardini, in campo il Superderby all'ora e 15 Milan-Inter e poi Atalanta-Napoli. Benevento-Roma stasera, domani si chiuderà il turno, la ventitresima giornata, con Juventus-Crotone. La classifica, giornata in virtù delle sfide già disputate. Venono in testa l'Inter a 50 e il Milan che segue un punto dietro a 49 e la Roma a 43 raggiunta proprio dalla Lazio. La situazione nella colonna di destra della classifica vede la Fiorentina scavalcare di un punto l'Udinese assieme al Bologna a 4-25, a 26 il Genoa, a 30 la Samp. Questo il quadro. Torneremo a parlare di sport in coda al nostro notiziario per quanto riguarda la Serie B, ma anche il basket, l'Una Rossa e il calcio dilettante. Ora veniamo alle notizie di Cronaca con una fuga di gas GPL stamattina a Tarcento. Nel primo mattino attorno alle 7.30 la richiesta di intervento ai vigili del fuoco da parte dei proprietari di una villetta schiera situata in via Pasolini al Civico 2. L'esplosione ha divelto il portone dello scantinato. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito, ma solo alcuni danni al garage. Sul posto le squadre dei pompieri di Udine e Gemona del Friuli per la messa in sicurezza dei locali. In Veneto invece una nuova tragedia nella tarda serata di ieri. Una donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor nel Trevigiano con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il piccolo è stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate e è stato portato al caffoncello di Treviso. La donna era uscita di casa verso le venti facendo perdere le sue tracce. Scatato l'allarme i carabinieri hanno trovato la sua auto vuota nei pressi del ponte sul piave alto una quindicina di metri. Calandosi sul greto i pompieri hanno scoperto il corpo della donna e il bimbo. Sopravvissuto ma gravissimo. Ora l'aggiornamento sulla pandemia con le richieste da parte delle regioni italiane. Ieri sera si è tenuta la conferenza con il presidente Bonaccini che ha spiegato quali sono le misure richieste proprio dai governatori. Lavoro comune intesa fra tutte le regioni nelle prossime ore presenteranno infatti al governo una piattaforma di proposta in vista del prossimo DPCM nella condizione che nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica. Anche per questo abbiamo chiesto al governo un incontro urgente ha detto Bonaccini la priorità ha proseguito la campagna vaccinale sta andando a rilento e questo non per disguidi organizzativi o indisponibilità della popolazione. Il problema è proprio l'approvvigionamento. Si è discusso anche sull'ipotesi di portare tutta l'Italia in zona arancio alla luce anche delle immagini che sono arrivate anche ieri dalle grandi città con gli assembramenti. Abbiamo le immagini proprio di Napoli in questo caso e c'era un'ipotesi dicevamo proprio lanciata da Bonaccini per un'Italia tutta arancione ma è stata respinta e si continuerà con le colorazioni attuali. Può esserci nel Consiglio dei Ministri di domani una revisione a ribasso dell'indice R Conti attraverso il quale far scattare prima la zona arancio o rossa in base all'aumento dei contagi. In queste giornate si sta celebrando un po' in tutta Italia l'anniversario dei primi casi dalle prime vittime da Covid-19. Vi abbiamo raccontato per esempio nei giorni scorsi in Veneto il caso di Uganio dove ci fu la prima vittima proprio in Italia da Covid-19 ma tra le località più colpite, lo ricorderete, ci fu Codogno. Allora andiamo ad ascoltare a un anno di distanza che cosa ci racconta il sindaco del paese Lombardo. Un anno fa è cambiata la vita di tutti noi, è cambiata la nostra esistenza. Un anno fa come oggi ancora non avevamo fortezza perché da poche ore ci sarebbe caduto addosso un meteorito, un tsunami, qualcosa di sconosciuto e qualcosa contro cui dovevamo imparare presto a combattere e ancora oggi combattiamo. Però lo spirito credo che non sia mai mancato ancora oggi, è ancora più forte la voglia, la volontà, la speranza che quanto prima riusciremo ad arrivare magari a contagi zero e poter pensare finalmente alla nostra libertà. Sappiamo che non è finita, sappiamo che dobbiamo ancora andare avanti con quei comportamenti che abbiamo imparato ormai da un anno a seguire perché sono l'arma più grande insieme al vaccino che speriamo presto riesco a ottenere i risultati che tutti speriamo. Noi con voi, noi con noi, ancora più che mai. Veniamo anche all'aggiornamento sui numeri relativi al Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore, come potete vedere dal nostro grafico, sono stati 326 nuovi contagi, 60 le persone che rimangono in terapia intensiva, un aumento di 4 unità, scendono leggermente ai ricoveri negli altri reparti a 348, le persone in isolamento domiciliare rimangono 8.844, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.792 tra test rapidi e tamponi molecolari, le vittime sono state 8 con il bilancio che sale a 2.756 dall'inizio della pandemia. E a livello settimanale il bilancio che viene fatto dalla Sissa sul Friuli Venezia Giulia per la settimana appena conclusa appunto mostra una situazione di miglioramento con una diminuzione del numero di nuovi casi e con una riduzione della pressione del servizio sanitario sia in area critica sia in area non critica. Nella settimana appena trascorsa si sono rilevati 1.778 nuovi casi contro i 2.161 della settimana precedente. Il numero di persone testate per la prima volta scende a 14.843 contro le oltre 17.000 della settimana precedente. Il rapporto di casi positivi sui casi testati è in lieve diminuzione al 12%. Per la prima volta dall'inizio dell'anno il dato del Friuli Venezia Giulia nel rapporto di casi positivi su test scende al di sotto del dato nazionale che questa settimana si è attestato al 13,8%. Come dicevamo cala ancora la pressione sugli ospedali. Per quanto riguarda invece l'economia a richiedere interventi mirati al governo oggi dalle pagine di Repubblica e soprattutto una campagna vaccinazione all'interno delle fabbriche il presidente della Confindustria Bonomi. Siamo pronte ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni dei lavoratori e dei loro familiari ha dichiarato il numero uno degli industriali prendendo spunto tra l'altro di una proposta fatta nelle scorse settimane dal numero uno degli industriali della Venezia Giulia e di Pordenone Michelangelo Agrusti. Siamo d'accordo con l'impostazione del presidente Draghi di coinvolgere i privati nel piano vaccinale dichiarato Bonomi. I dipendenti delle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5 milioni e mezzo. Se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremo vaccinare più di 12 milioni di persone. Siamo disposti a mettere le fabbriche a disposizione delle comunità territoriali nell'ambito del piano nazionale delle vaccinazioni, ha detto ancora Bonomi. A livello territoriale invece i sindacati hanno fotografato la situazione economica del Friuli Venezia Giulia con la problematica della delocalizzazione che torna ad attualità. Ascoltiamo Luigi Oddo della Will Udine. Già dal 2008 abbiamo iniziato a vedere questa crisi che ancora non è finita, anche se a tratti ha avuto qualche sviluppo a macchia di leopardo, però adesso il Covid ha fatto il resto. Noi siamo in una situazione drammatica perché abbiamo troppe aziende che non ce la fanno più, aumenta la cassa integrazione, diminuisce il fatturato e di conseguenza stiamo vedendo che i locali vendesi o fitte si aumentano in tutta la provincia e questo non ci fa presagire ovviamente come dire buone cose se non si interviene in maniera veloce con dei buoni investimenti che possano rivitalizzare il territorio e soprattutto incrementare l'occupazione. Alla Giunta regionale cosa chiedete come priorità? Intanto si è fatto dei progetti, quali sono le iniziative che imprenderemo sulla base del denaro che può arrivare e dove investirlo? Dove si interviene? Si interviene in sistemi strutturali che poi creano occupazione a lungo termine o si interviene a pioggia a fare piccole cose che poi non danno economia oppure fanno economia sul momento ma che di fatto non creano occupazione a lungo termine. Faccio un esempio, se si vuol mettere a posto l'ex manicomio di Santo Svaldo e della provincia di Udine, quattro lavoratori, due grue risolte il problema, non è quella l'economia che a noi serve. Rilanciate anche una riflessione in merito alla delocalizzazione. Quello è un dramma sul quale noi abbiamo sofferto e continuiamo a soffrire. La delocalizzazione è un tema molto pesante che la politica non ha mai voluto affrontare, che tratta il fatto che non è possibile vivere in un'Europa dove ci sono lavoratori come in Polonia, Ungheria, e Romania che vivono a 500 euro al mese, hanno un costo di lavoro bassissimo, noi con loro non possiamo competere, siamo perdenti in partenza. A questo si aggiunge anche le multinazionali che sì, quando arrivano sollevano magari aziende in crisi che sarebbero morte altrimenti, però poi sono padroni del territorio. Noi siamo in mano a tante multinazionali, fondi di investimento che hanno acquistato le nostre aziende, i quali quando decidono di andarsene via non c'è nulla che li ferma perché non c'è una legge che può impedire a un datore di lavoro di non delocalizzare. Quindi è un dramma sul quale bisogna intervenire. La politica può fare cosa? Delle norme, dei patti col sindacato di permanenza sul territorio a fronte di buoni accordi e buoni incentivi occupazionali e vantaggi per cui uno possa rimanere qua e fare buona economia. Il sindacato della UIL, quello relativo alla categoria dei pensionati, interviene per proporsi il quale braccio destro della Regione per il monitoraggio della situazione nelle case di riposo. In Regione c'è un articolato sistema di monitoraggio delle residenze per anziani, dice la segretaria Magda Gruarin, legati all'emergenza Covid e non solo. Gli strumenti sono stati illustrati in un ampio documento che l'assessorato alla salute e alle politiche sociali ha condiviso ancora a novembre. I risultati del monitoraggio ci metterebbero nelle condizioni di comprendere a fondo l'impatto del Covid sulle nostre comunità, aggiunge Guarin, facendo riferimento al sistema Sira messo a punto dalla Regione per raccogliere le informazioni utili. Ogni giorno leggiamo bollettini con i dati delle persone decedute, contagiate e infette, le notizie che ci raggiungono ci tolgono speranza e immaginazione. Siamo sommersi dai numeri, ma dietro questi numeri, aggiunge ancora Guarin, ci sono delle persone, ognuna con la propria storia, il proprio vissuto e proprio per questo i dati vanno interpretati. Altri riflessi della pandemia si stanno registrati e si sono registrati anche sulle nozze, sui matrimoni. L'Istat ha fatto il quadro della situazione rispetto all'ultimo anno. Vediamo. La pandemia ha inciso pesantemente sulle relazioni sentimentali. Nelle primo semestre 2020 è crollato il numero di matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, secondo quanto certifica il report dell'Istat su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi. Il vero crollo si delinea nelle secondo trimestre per via delle restrizioni relative alla celebrazione dei matrimoni religiosi durante il lockdown, così come per quelle finalizzate a ridurre gli eventi di stato civile che hanno luogo nei comuni. La diminuzione rispetto alle secondo trimestre 2019 è stata di per i matrimoni, di circa 60% per le unioni civili e le separazioni e divorzi consensuali presso i comuni e i tribunali. Ma la tendenza in calo, seppure in minore misura, era già presente. Nel 2019 sono stati celebrati in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all'anno precedente. Il calo riguarda soprattutto i primi matrimoni. Scendono anche le seconde nozze o successive, ma aumenta la loro incidenza sul totale. Ogni cinque celebrazioni, almeno uno sposo, è alle seconde nozze. Riapriamo la pagina sportiva come promesso per raccontarvi del trionfo di luna rossa all'alba di oggi nelle acque della Baia di Oakland in Nuova Zelanda. Ha vinto la Prada Cup, l'imbarcazione italiana, conquistando l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. Andè l'equipaggio azzurro ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione britannica Ineos, portandosi così sul risultato finale di 7 a 1 nella serie. La finale di Coppa America si terrà sempre nelle acque del golfo neozelandese di Orachi dal 6 al 15 marzo prossimi. Siamo italiani, le prime parole di Checco Bruni, uno dei timonieri, mentre la barca italiana è entrata nella storia. Per quanto riguarda la distanza anche di 21 anni, dall'ultima volta del trionfo della barca italiana che ha vinto la selezione degli sfidanti. Oggi Prada Cup, a cominciare dal 6 marzo, dunque si andrà a sfidare Emirates Team New Zealand per coltivare il sogno. Il basket ora, questa sera alle 18, l'Up World Wild West sarà in campo a Casale Monferrato nella ventesima giornata della Serie A2. Una sfida tra bocchetto per i ragazzi di coach Bonnicioli che puntano a riscattare la sconfitta dell'andata. Ce ne parla Lorenzo Pausa. Non tragga in inganno la striscia aperta di quattro sconfitte da cui ereduce Casale Monferrato. E non tragga in inganno che la squadra di Valentini, promosso a capo allenatore dopo i saluti di coach Mattia Ferrari, sarà ancora orfana di bomber redivo e con una rosa imbottita di under. Per l'Up World Wild West, quella di stasera in Piemonte sarà una sfida ben più insidiosa di quanto possa sembrare. E lo sanno bene i ragazzi di coach Bonnicioli, che all'andata, forti del primato in classifica con 5 vittorie su 5, vennero messi sotto dei casalesi presentatisi al Carnera con soli 8 giocatori. Massima attenzione dunque in un'altra sfida chiave per il cammino di Antonuti e compagni. Vincere per continuare a lottare per il secondo posto è il primo obiettivo, ma nelle gare di ritorno l'occhio è sempre rivolto anche alla differenza canestre negli scontri diretti e in questo caso per ribaltarla a proprio favore serve uno scarto di ben 14 punti. L'impresa è già riuscita quattro giorni fa nella splendida fermazione casalinga contro Piacenza, che ha messo il sigilo sulla definitiva rinascita dopo il gennaio nerissimo. L'apu di adesso è di nuovo quella di inizio stagione, forse meglio, perché da almeno due partite a questa parte, oltre alle cifre di punti, rimbalzi e assist, c'è un gioco di squadra che si costruisce solo con mesi di lavoro. Il livello è alto, ma per mantenerlo i cali di concentrazione non sono ammessi, specie con un avversario a trabocchetto come Casale Monferrato. La Serie B ora al Pordenone in campo, questo pomeriggio alle ore 15 a Reggio Calabria, al granillo contro la Regina. Andiamo a capire nelle parole di Mr. Tesser, che non siederà in panchina perché è squalificato, quali sono gli obiettivi da questa gara. Mr. Tesser, domani Regina Pordenone, c'è voglia di riscatto dopo la pari con il Cittadello? Certamente sì, c'è la voglia di riprendere in maniera positiva, siamo consapevoli che è un momento importante del campionato e che domani ci aspettano una partita particolarmente impegnativa, quindi dovrà essere un Pordenone veramente a livello ottimale. Che squadra è la Reggio? La Reggio è un'ottima squadra, ha trovato una quadratura importante, è in un momento estremamente positivo perché negli ultimi 5-6 partite di risultati utili hanno preso pochissimi gol, è una squadra che ha una sua identità ben chiara, molto offensiva, super offensiva, un 4-2-3-1, 4-2-4 che si voglia chiamare, è una squadra che gioca all'attacco, pressa moltissimo, in casa e fuori non fanno differenza e quindi hanno un'identità ben precisa. Come dicevo prima, partita impegnativa, detto e dato merito all'avversario, è importante quello che facciamo noi, che noi ci siamo, rispondiamo bene, abbiamo cercato di prepararla nel miglior modo possibile e poi che si risponda sul campo. È importante non avere paura, avere coraggio, personalità, dentro l'umiltà ma anche autostima. Un talento come Menez assente all'andata può essere comunque un osservato speciale? No, un osservato speciale è una squadra che ha altri giocatori importanti per questa categoria e dovremmo stare attenti a tutti. Chiaro che Menez è un giocatore che può sempre avere la giocata, inventare sempre qualcosa di particolare e di superiore alla media dei giocatori che ci sono in giro in questo campionato, quindi dovremmo stare particolarmente attenti. Dovrei seguire forzatamente la partita dalla tribuna, la mia domanda è se per te cambia qualcosa e si è cambiato durante la settimana? No, non cambia nulla, la settimana è stata preparata come sempre, ancora con più attenzione, se si può dire così, ma la si prepara sempre al meglio. Purtroppo ho preso le giornate di squadrifica e non ci sarò, ci sono i miei collaboratori, le direttive saranno date prima e quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo fatto in settimana è quello che conta. Poi l'atteggiamento della squadra, io non gioco, aiuto e chiaramente mi dispiace tantissimo non essere in campo, non essere con i ragazzi, l'arbitro ha detto che ho sbagliato e è mia colpa. E di entrare a Malamo tra i convocati, hai qualche balottaggio o qualche idea? No, ancora abbiamo appena finito l'ultimo allenamento, l'ultima rifinitura, un dubbio o due rimangono sempre, rientra Alessandro dopo un lungo periodo e sarà pronto anche lui per eventualmente qualche minuto. Adesso vedremo, vedremo in queste ore, però grandi cambiamenti non ci saranno. Andiamo a vedere anche il quadro completo con i risultati di ieri che hanno visto la vittoria del Venezia per 3-2 sull'Entella, del Monza 1-0 sul Chievo, della Reggiana 3-0 sul Cittadella e della Cremonese 2-1 sul Brescia. Per quanto riguarda invece le altre sfide, 1-1 tra Pisa e Empoli, 2-2 tra Vicenza e Spalla. Oggi in campo, oltre al Pordenone, anche la sfida tra Lecce e Cosenza. La classifica aggiornata con l'Empoli ancora in testa a 45, il Monza a 42, Venezia e Serenitana a 41. Il Pordenone è a quota 32 nell'ultimo posto nella colonna di sinistra. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che dalle 11.30 arriva a Studiestadio con Massimo Campazzo per seguire live la sfida dell'Udinese contro il Parma con i suoi ospiti collegamenti dal Tardini. Stasera invece alle 21.30, Studiestadio commenti con Francesco Pezzella e ci saranno anche Paolo Bargigia e Paolo Poggi. Ci fermiamo qui, l'informazione tornerà alle 16, spazio al meteo. Ancora una buona giornata a tutti. Amici di Udinese TV, ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Situazione per la giornata di domenica che vedrà nuvolosità irregolare investire tutta la regione. Nubi irregolari a tratti compatte, pochissimi fenomeni. Maggiori aperture del cielo invece sulla Carnia e la Giulia. Andiamo al dettaglio previsionale per Udine e Pordenone perché la situazione qui sarà ancora di nuvolosità irregolare poche le schiarite maggiori, dicevo, sulle Alpi settentrionali. Temperature minime attorno ai 6-7 gradi, massime localmente anche oltre i 10 gradi, nonostante un po' di nuvolosità sparsa. Per quanto riguarda invece Gorizia e Trieste, situazione anche qui di nuvolosità irregolare e non escludiamo qualche isolata goccia di pioggia, qualche debole precipitazione fugace. Anche qui guardate le temperature massime attorno ai 10-12 gradi. Tutti i dettagli precisi li trovate però come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.